Oggi, cosa è? No. Già ii. Ah, adesso sto andando. Ok. Scusate, colpa mia. Oggi, le corde stavo un po'. Come ve lo sentire un po'. Vabbè, giochiamo. Oggi siamo di nuovo su The Battle Cat. Miau, 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 ba, ba, ba. Battle Cat, K.O. Allora, bene, caricati, caricati, coso? No. No, l'ho già fatti vi dici. Bene, a non ero il knew they would be in un'expressa. Mieu, sì. Ormai a me stanno andare a tutta la persona del mondo tranne a me. Come open cam, non a me. Vabbè la mia esperienza,